Valdagno, il questore chiude 15 giorni una discoteca. Le fiamme gialle di Arzignano e i carabinieri del comando provinciale hanno notificato il provvedimento e sospeso la licenza dopo diversi episodi. In particolare durante un controllo della Guardia di Finanza era stata riscontrata la vendita di bevande alcoliche a un minore. Due giovani, di cui uno minorenne, erano anche stati sorpresi a consumare droga all'ingresso del locale. I carabinieri di Valdagno, indagando su una violenta aggressione di gruppo nel parcheggio della discoteca contro altri avventori, hanno poi accertato la presenza consolidata di persone con precedenti penali o di polizia. Da qui la sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico.